E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Qui che cosa ne siete ragazzi che vi parla Noi ragazzi siamo qui in questo nuovo video Scusate un attimo cerco di zoomare un pochettino ancora Così posso andare bene un altro po' No dai un altro po' E' fuoco Ok ragazzi Quindi noi siamo qui ragazzi in questo nuovo video Del rodo di divisione 1 ragazzi Si laga Come vedete però sono in divisione 4 Vi ricordate nella live che ero in divisione 2? Bene Volevo sapere perché sono in divisione 4? Tre parole FIFA fa schifo A te ragazzi FIFA mi ha fatto beccare Tante squadre forti 386 di file ragazzi Cioè Come facevo a vincere? Poi dovete vedere i risultati cavolo Delle partite proprio raga Impossibili Mamma mia Delle partite impossibili Cioè Lasciate stare guardate Comunque ragazzi dai Non perdiamoci piacche Giochiamo la nostra partita ragazzi Prima di tutto Voglio farvi vedere Che ragazzi Si Ho venduto Napidici E ho comprato Andresiniesta Ragazzi Pagato 47.000 crediti E' molto forte Questa è la mia squadra Volevo vedere bene Donnarumma Sif Florenzi Manolas Piqué Giordialba Mengodan Kanté Iniesta Manemot 86 Martial E Vardif 84 ragazzi Siamo stati chiedendo Se quando tornerà La carriera Come si suona ragazzi La carriera Io la registro di giovedì Con o senza Tommy Dipende come sono organizzati E la carrikerò poi o giovedì Se le riesco a editare O venerdì O sabato Comunque la carriera Con se solo Arriverà sempre Tra giovedì E sabato Ragazzi Voglio dirvi un attimo Una cosa Riguardo Il vlog della gara Che dovevo fare Purtroppo ragazzi In questi giorni Non sono stato bene Non sto ancora tanto bene Infatti Non ho la febbre Però Toast Raffreddore Mal di gola Per fortuna Mi è quasi passato E ragazzi Domenica Che dovevo andare a fare la gara Avevo la febbre Quindi Non sono potuto andare alla gara E niente il vlog Però Se per domenica prossima Sto bene Avevo il vlog di domenica Però Vedremo ragazzi Comunque Ragazzi Cerchiamo un avversario Con il nostro 184 Ok Questo del 2015 Mi fa paura Cambio la tua maglia Vabbè Vabbè Fai il partito di guerra Bravo Ok Questo ragazzi Ha una bella serie E a Comperin Basto Devarai Vermalen Gulam Baselli Sosa Samoa Berardi Gabbiadini Filipe Anderson Ragazzi Filipe Anderson Vediamo Come va questa partita Ragazzi Molto seria 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 Ah Lui si è uscito A vedere che era Tantina Però Ragazzi Tutto Martial Parte cattivo Vanè Vede Kantè Kantè Ancora Vado Vardy Vardy Vede Martial Martial Vede ancora Vardy Fermato Però Tantina Ragazzi Contro Sosa Fermato Con Messiere Da Lengolan Oh Gulam I passaggi Di classe Ok ragazzi Questo Devo fare Molta attenzione Perché Ok Partiamo subito male Non so Quali stagli Ragazzi Questa partita Perché In questo video Perché voglio Carcare Di altre Abbastanza Partite No Abbaiato Comunque Era fuori gioco Quindi ragazzi Ci è andata bene No Perché Dove Servire A me Non ha servito Non ha dato Vardy Datelo Mannaggia Ragazzi Ragazzi Tu quello che vuole Voglio Ciao Scuso Però C'è Caile Sono pure In questo Scassum Non puoi fare Come Filippello Sono Scuso D'ora Scusa Di che E E E La La Cacchio Uri No P Guarda Guarda E Guarda Porca Mo la nonna cante che passaggio del cavolo dai mazzale prende non farti anticipare ma salta chi niente no dai ti avevo detto di andare più di là perché non l'hai fatto mamma mia perché se ti dico di andare da una parte e dall'altra eh vabbè eh vabbè cioè regala dai non si può non si può non si può no non si può ma ecco come come ma non lasciate stare la raga mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia no vabbè ragazzi 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 sta partita giuro vi avrò messo solo l'ultimo minuto da ora che sto parlando eh ma tutta la partita ragazzi solamente i suoi 3 gol vi avrò messo solamente i suoi 3 gol di sicuro perché cioè è possibile fare una partita del genere non me la voglio proprio far vedere c'è la propria per andare guarda mi caccio tutti no che cos'era ho provato 3 per fargli lo fare basso mi 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 tira la cannella ma un gol manca a pagarlo lo fanno ripare un gol manca a pagarti me lo puoi fare no raga dai taglio l'altro questa partita poi noi ci vediamo alla prossima partita ok ragazzi siamo con questo scremato un attimo della rosa ora ragazzi vi spiegherò il perché allora ragazzi io per risolvere il problema appunto della forma fisica ragazzi cosa ho fatto mi sono fatto un'altra squadra intera che ora vi andrò a far vedere come tutto fatemi togliere un attimo tutti questi giocatori qua perché vi devo far vedere ragazzi la mia seconda squadra che mi sono fatto prima infatti dopo vi faccio vedere non ho più credito non avevo tipo 6.500 7.000 una cosa del genere io ho fatto questa squadra ora mi metto tutti i giocatori di quella squadra mi metto qua ragazzi poi vi faccio vedere però la formazione titolare potete già vedere questi giocatori appunto ok ragazzi ok ragazzi la squadra è composta da per in di men scovaci c'è la lana felenino felenino i contratti dunque a 96 intesa perchè non ci vorrebbero i giocatori ci manca ancora la fedeltà a tutti i giocatori praticamente raga ci manca ancora la fedeltà e allora e allora la ragazza io decido praticamente di fare una con le storie ci gioco le divisioni così e faccio soprattutto i video con questa qua secondare ci faccio i tornei e recupero una forma fisica per la titolare e allora andiamo a andare un attimo al contratto a giù di alba che mi serve ok io ho questo se potete per forza gli dobbiamo andare a questo e salve l'infortunio così ce la faccio ragazzi perfettamente allora torniamo sulla chicco 2007 ragazzi cosa dobbiamo fare voglio mi metto qua tutti i titoli che mi serve in oltre anche da ciò degli infortunati così mi possono girare molto meglio ragazzi i miei ragazzi devono cercare una bella partitozza da fare e cerchiamo il nostro messaggio dove ho perso quella partita di 3 ok ragazzi il messaggio l'ho trovato vediamo lui che squadra ci porterà davanti ragazzi bella squadra c'ho ehm Matteo contro il minasso Varane Rafinha Kovaci c'ha disapgrade non upgrade aia Carrasco Coker Williams mi fa un po' ora ragazzi Correa e Bakambu ragazzi è una bella squadra non c'è niente da dire però ah ragazzi con la squadra di prima intanto che inizia la partita vi dico con la squadra di prima ragazzi ho fatto una partita nel torneo no? nella Champions Shield stavo perdendo 2-0 poi gli ho fatto 3-2 poi gli ho fatto 3-3 e poi gli ho fatto 6-3 ragazzi e poi gli ho fatto 6-4 dunque la partita ragazzi ho pinto 6-4 con quella squadra vedete ragazzi quella squadra è tutta bug perché non c'è nessuno in forte c'era solo Giorgia Alba io poi dovrò camminare con Contravo non ha fatto niente Giorgia Alba in quella partita eh non l'ho proprio usato ok io ho visto sono riusciti a me dai Gli Mertens alto e quadrato a quello mi vuol dire questa è una squadra di riserva una squadra secondaria da fare il turnover per la Serie A ok ragazzi è partito Carrasco però ora credo di aver acquistato un po' di fiducia rispetto alla partita che ho fatto con quella squadra di prima io credo di giocare un po' meglio anche perché cavolo Kovacic ragazzi Kovacic quello avete visto l'attacco che ho Mané, Musa e Depay è devastante mamma mia anche quell'attacco la ragazzi sì un po' di fiducia l'ho acquistata Kovacic pure è Dio è Dio è troppo forte Kovacic come Cici altro che Iniesta così Kovacic Kovacic è troppo forte Cici ma poi c'ho Fellaini che lo uso da fare entrare in tutte e due le squadre perché è un giocatore di più praticamente che io non ce l'ho in nessuno vaffammo culo eh vabbè che io non ce l'ho un per nessuna cioè non ce l'ho c'ho per uno libero lì lo faccio entrare sia in questa squadra qua sia nell'altra lo faccio entrare alla fine così tipo il settantesimo che mi serve al posto di Kanté o al posto di Baselli uno che le prende tutte di testa le Dio mamma mia raga allora senti tu con me non hai capito proprio una beata mazza ma che culo è il primo gol di quest'episodio in gol Kanté lo firma proprio lui il primo gol dell'episodio ragazzi in gol Kanté 8 want to watch want to watch 9 Tots che ancora devono uscire Tots che ancora devono uscire sarà poi 10 e Toti vabbè Toti 11 12 e poi ragazzi non ci portiamo un vantaggio e il gol lo firmola lo firmola Anthony marziale ragazzi ci sarebbe anche a fare una serie così eh fatemi sapere se volete questo solito di road to glory dove faremo praticamente ragazzi le partite online singole online e ci costruiremo ragazzi questa squadra qua a parte questa formazione per cercare di raggiungere il nostro road to glory cioè fare la nostra squadra definitiva ragazzi ragazzi vedete l'ho detto che in questa partita avevo un po' più di sicurezza perchè sono riuscito a giocare bene con quella squadra di prima quindi ora mi trovo anche abbastanza bene con tutte le squadra con tutti i giocatori che era un po' attenzione no guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua un altro punto pallonetto un altro punto ehm pallonetto un altro punto punizione allora no vabbè poi me le studiorò io bene e ve le dirò vai florenzi 3 a 1 ragazzi stiamo blindando proprio questa partita e comunque vabbè poi me le schematizzerò bene io per cercare di non mettere né troppi punti né troppi pochi anche perchè poi la serie poi durerebbe o troppo o troppo poco dipende ragazzi vedrò come organizzarmela vedrò ci pensero io voi fatemi sapere se la volete però io la farò lo stesso però se volete farmi sapere se la volete o no magari vi fate un favore anche per vedere in quanti l'apprezzerebbero ah ma questo mi è stato un attacco totale ciao frate nooo quanto raga non posso andare addirittura perchè mi stia mi aveva già recuperato un totale secondo se io ora parto in controchelle sono cavoli suoi guardate visto lo sapevo lo sapevo però va bene dai siamo ancora in vantaggio ragazzi siamo a 73 non me la devo gestire bene questa partita voglio ragazzi portarmi a cale 3 punti per errore tutto diviso un guai ma non mi prendo la rimessa laterale e allora ragazzi la tengo la la tengo la che non fai venire i felleni Sì Ragazzi Tre punti per noi Non scopri che non stava registrando Ok se invece stava registrando ragazzi Tre punti per noi Raga Ci hanno fatto altri 460 crediti Se mi sono stato il moltiplicatore Ok Io logicamente Andrò avanti Ora perché non posso fare solo esclusivamente Le partite qua Cioè nel video ragazzi Non posso fare solo esclusivamente partite in video Poi però non posso sempre registrare Mentre gioco Non è anche un po' per cavoli mie Magari Facciamo un pezzo di dividono 4 insieme Poi magari io arrivo in divisione 3 La continuiamo in divisione 3 Dunque ragazzi Fatemi sapere se volete anche Road to Glory Tanto io penso proprio che lo farò E niente Ragazzi ci vediamo al prossimo video Però prima di tutto ragazzi Lasciate un bel mi piace A questo video Cerchiamo di arrivare Almeno a 10 like ragazzi Dai 10 Mi bastano 10 like E Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti